della situazione allora vediamo se ti becco per bene che gli altri non sono sempre peccati a mezzo fai un po' il risoponto a Firenze la situazione è critiche allarmate critiche allarmate a Firenze è un netto nell'altra città dove ci siamo presentati qualcuno si va molto bene quindi si viaggia come si è sempre detto la rivoluzione culturale ci avrà molto più tempo e naturalmente le persone si accorgeranno tra qualche mese le bugie di questo governo e dell'opposizione hanno le gambe fortine quindi vedremo se inizieranno anche a ragionare i programmi